ma Buonasera a tutti ragazzi c'è jeffrex che vi parla ed oggi siamo sulle sky wars di ipixel in compagnia di harry pot bella brutta però ragazzi c'è anche lager in partita c'è davo quindi non va bene questa cosa non va bene questa cosa oh siamo partiti mamma mia allora c'è della tnt lo facciamo esplodere ma con calma non c'è niente allora c'è un'altra cesta faccine una mamma mia trovo una spadona che toglie 100 di di vita sei contento? beh diciamo con un po' di fertesi però contro no qua c'è un'altra cesta oh ma timbano ma perchè mamma non è un'altra cesta scoperta che dabbè vabbè 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 nella stessa vita facciamo tim pure noi devo vedere di arrivare in quel corso senza cadere non avessero fatto cadere davvero è morto meno male così non fanno tim oddio c'è Antonio e Ricky che timano oh è messo benissimo questo dizio oh dietro dietro eh no è arrivato dopo a sponchillare eh si e vabbè quelli che hanno fatto il team vabbè però a parte che facevano team tutti e due però ho fatto una bella kill quello là era messo molto meglio rispetto a me quindi Gigi vabbè ragazzi ci vediamo nella seconda partita ok ragazzi eccoci nella seconda partita siamo nella mappa serpente solo che noi siamo dall'altra parte ok vediamo cosa troviamo ti è nettico ma stoppito perché noi siamo dei freddo professionisti certo ma questa la macchina che dobbiamo fare ma nelle farmaci non gli mettono mai niente no ma le ha le cose mi lasci ma guarda dove pensi di andare ma gli permetti eccola qua la spalla vi faccio vedere io non si permette guardalo guardalo sì ma a me mi può cioè mi targhetta ma io che devo fare ma io non lo so la gente che targhetta non puoi capire come ci sa quello là teoria potrei andare al centro però ho paura che mi buttano ma in teoria non c'è l'arco in teoria in pratica in pratica non lo so però in teoria non ci dovrebbe essere vabbè ora vediamo che c'è questo qua nella sua isola e poi va dal centro che la prossima faccio come giochi tu in casa cioè a me a me se non mi targhetta se è unito a lollo lollo chi? barcollo ma non mollo? certo ah ma non è il lollo vero è un lollo fake eh vabbè comunque c'è lollo c'è il lollo no 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 basta non mi sono offeso ehm è meglio quella en sì mi sembra che è meglio quella enchain che in quella toro là sì 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 enchain enchain eh ti sta avvenendo una leale che ora è scomparso però sta avvenendo da me che vuole una spada da tirare in testa c'è eh c'è c'è stava a cuore scomparso c'è c'è qua dove? qua in quella in quest'isola a fianco stava poi scompare qua è qua è eh tu è qui qua davanti a te ma è la mia isola no quella a sinistra quella che hai puntato a destra quella va qua eh stava qua mi sento visto che mi sono girato non c'era più forno non è che mi viene da dietro mi viene da dietro è spostato in l'isola lontanissimo è nell'esatto posto da te sì sì è nell'esatto e se tu controlla le ale insomma se non l'avevi da te ah ma sei sicuro che non ci sono gli archi dimmi però se sta venendo da me sta venendo a centro sta venendo a centro sta venendo a centro è dall'altra parte lo puoi vedere ok dai veloce 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 no no ci arriva prima lui ci arriva prima lui sicuro sì cioè è già atterrato volendo vabbè va vabbè anche io ci sono va se ti tieni shiftato eh vabbè ora avanti oh c'hai uno in netto no basta ve ne vado no non voglio fare niente sono venuto in pace vabbè oh lo puoi buttare giù vai sali 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 e cosa vuole una tattica tattica giovanni ragazzi voi ve le insegno ragazzi se volete vi faccio un tutorial no aspetta mi aspetta mi aspetta mi aspetta mi aspetta no vabbè la tattica è un po' più in me è un po' morto vai è morto però quindi avete visto che la tattica ha funzionato sono un pochino irritato la tattica ha funzionato cioè ho vinto ho vinto ho vinto ho vinto imparate da Hiflex soprattutto le tattiche qui esatto comunque ragazzi ci vediamo nella terza e l'ultima partita ok ragazzi siamo nella terza e l'ultima partita possiamo spaccare l'erba per prendere tutte le casse è praticamente strana questa mappa perché se potete notare siamo a due passi dal centro di una roba assurda dobbiamo essere molto veloci a recuperare le ceste perché dobbiamo arrivare al centro allora prenditi qua ok qua c'è l'altra allora che è sta cosa perché c'è i drop dello shulker che è cadetto ma perché c'è uno che sta facendo segno di team verso di me mi sapevo niente mi sapevo niente ciao tizio vieni qua ah guarda come voglio fare segno di team guarda guardalo lo stanno pushando stanno pushando amma mia è morto sei guai guaglione mi raccomando ragazzi tutti controlli ah no no eh eh oh 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 oddio pensavo di morirci giuro allora la best kill mamma mia che kill tipo con un cuore non lo so quando è uscita mamma mia ragazzi bella questa kill allora se qualcuno mi dà solo un colpo mi offendo perché mezzo cuore sei sicuro che non ce li hanno qua gli archi in queste mappe eh ma in teoria no ma in teoria praticamente non lo so cioè lo vuoi detto in modo più onesto possibile come la teoria è un optional allora ragazzi qui c'è solo una cesta allora andiamo nell'isola a parte quanti siamo rimasti eh quattro in teoria e in pratica e in pratica non lo so te lo dirai immediatamente ma stanno scannando c'è una roba assurda eh esatto guarda come si scanna è un mischio nella folla ti devi aggiungi pure tu si si ma va guarda si infuca da solo quel tizio va bene no ma c'è un buco te l'ho detto non lo voglio fare soffè ci sono i buchi al centro infatti sono caduto ma no ma ste mappe con i buchi madonna non le sopporto eh lo bello ora guarda di qua le cose che succedono alla finale alla finale si invisibola 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 vada vada vediamo che vince vediamo che vince ah raga però c'è dico io qua metteteli dei blocchi ah così effetto ora ci può giocare la vince eh solo perchè io sono morto eh la vince basta no no solo perchè sono morto vabbè ragazzi però ho fatto un po' possa uccidermi così glielo dada vinta a ti pare ho corso no cioè farli vincere o farli divertire perchè vuoi non c'è uno spizio a giocare comunque ragazzi per questo video è tutto spero che vi sia piaciuto ma solo vi ricordo di lasciare un like un commento iscrivetevi al canale da Iflex e da Harry Potter è tutto bello ciao 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 ciao